C'è la possibilità di un percorso per i giovani al Comune di Villadogna, di cosa si tratta? Il Comune di Villadogna ha aderito tramite ANCI al progetto di servizio civile regionale in collaborazione con la Dote Unica Lavoro Garanzia Giovani. Il Comune di Villadogna ha deciso di lanciare un progetto nell'ambito educativo e culturale e ha indetto un bando per far sì che i giovani tra i 18 e i 29 anni possano iscriversi a questo progetto e fare questa esperienza. Per aderire al bando bisogna essere ragazzi, non né studenti né lavoratori, quindi essere fuori al mercato del lavoro né essere iscritti all'università o alle scuole superiori né tantomeno avere in corso tirocini. Se ci sono queste qualità ci si può iscrivere al portale di ANCI, tramite il portale ANCI a questo progetto e poi essere chiamati per un colloquio appunto conoscitivo per aderire al bando che il Comune ha messo a disposizione. Si lavorerà circa 20 ore settimana e ci sarà un'indennità di 430 euro mensili. Per dare un supporto ai ragazzi che vogliono aderire a questo progetto il Comune ha messo a disposizione il personale che sarà in grado di fornire tutto il supporto necessario per potersi iscrivere nel portale di ANCI per aderire al servizio civile regionale.